Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Entreranno in vigore domani, fino alle ore 24 di sabato 27 febbraio, le misure restrittive per le zone a rischio della provincia di Ancona, che, sulla base di un'ordinanza del governatore Acquaroli, diventano in zona arancione. I venti comuni interessati sono quelli di Ancona, Iesi, Osimo, Senigallia, Falconara Marittima, Filottrano, Staffolo, Serra dei Conti, Polverigi, Cupra Montana, Camerata Picena, Monte San Vito, Maiolati Spontini, Chiaravalle, Ostra, Loreto, Sirolo, Sassoferrato, Castemplanio e Castelfidardo, dove dovranno essere osservate le regole contenute nelle DPCM nazionale. Resta valida, sino a sabato, l'ordinanza che limita gli spostamenti in entrate in uscita dal territorio provinciale di Ancona. Nel frattempo, oggi è entrato in vigore il provvedimento del sindaco Bacci, che, almeno per una settimana, pone Iesi in zona arancione. Qui è in crescita il contagio tra gli adolescenti e quello della fascia compresa tra i 45 e i 60 anni. Dunque, scuola e luoghi di lavoro sono i due fattori più a rischio. Abbiamo capito che c'è una reale situazione di criticità, grande criticità. Ci sono focolai sparsi in città, sia nelle RSA, non solo cittadine, ma anche fuori città, sia nelle scuole. E pertanto abbiamo deciso di dare un giro di vite, perché la motivazione è semplice e banale, ma credo che sia fondamentale. È in pericolo la salute dei nostri concittadini e pertanto siamo intervenuti. Nel territorio comunale sono sospese le attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado, mentre per bar e ristoranti è possibile effettuare esclusivamente il servizio di asporto e consegne a domicilio. Disposta inoltre la chiusura di parchi e centri polivalenti, oltre che di mostre e musei. Dalle scuole ho già avuto ritorni di collaborazione piena. Cercheremo di stare sul territorio e controllare che queste disposizioni vengano rispettate. Cercheremo di stare sul territorio e rispettate.